In piedi, entra la corte! Chi chi è questa? Allora, di chi è questa tangente? Sua! È sua! No, 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 è sua! È sua! Mi scusi! È sua! Ma mia! Ma è tua! È tua! È tua! È tua! È sua! Ma falla finita che è mia! È sua, no? Ma di chi è mia? Ma di chi è mia? Ma di chi è mia? È sua! Ma quale è sua? È nostra! Sono soldi degli italiani! Sono finiti gli anni di piombo Sono iniziati gli anni di pietra Anni 90, parte seconda Il tuo film di Natale al cinema Tu non piace anche, perché è la... Il tuo film di Natale al cinema è stata una mostra nelle qualunque Grazie.